Buongiorno, oggi è giorno di Pasqua e sono qui per raccontarvi in due minuti che cos'è in realtà la Pasqua. Perché dico in realtà? Perché vedremo che cosa ci dice Dio riguardo alla Pasqua. Quindi io non porrei l'attenzione su quello che possa essere la Pasqua per gli ebrei o per i cristiani, anche se va detto che per i cristiani la Pasqua è il passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo, il quale viene identificato nel Nuovo Testamento come l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Ma questo riferimento a Gesù come agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo, dal mio punto di vista, è una metafora perché Gesù Cristo non è un agnello. Ma perché si parla dell'agnello? Ce lo racconta proprio Dio nel libro dell'Esodo, quando spiega le piaghe d'Egitto e all'ultima piaga avvisa che passerà per l'Egitto percuotendo, quindi uccidendo a percosse, gli egiziani uomini e animali. Chi non vorrà subire questo trattamento, gli israeliti che non lo vorranno subire, dovranno prendere un agnello maschio di un anno senza difetti e, badate bene, preso un po' del suo sangue lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. Ecco in quale modo lo mangerete, dice Dio, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi e il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. Quindi il Signore Dio specifica che la Pasqua è questa e aggiunge lo celebrerete come festa del Signore di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne. E quindi la Pasqua, ecco spiegato, è il fatto di mangiare un animale. Infatti ce lo ricordano anche nel Deuteronomio. Immolerai la Pasqua al Signore tuo Dio, un sacrificio di bestiame grosso e minuto. Addirittura nei Vangeli Gesù ce lo ricorda. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo, andate a prendere la Pasqua perché noi ne possiamo mangiare. Addirittura Gesù ricorda questo. Ma allora, se la Pasqua è questa, la Pasqua è questa, non un'altra. Quindi buon agnello a tutti. Ricordatevi di mangiarlo in fretta però.